Buongiorno e benvenuti a una nuova edizione del Fatto del Giorno. Tra meno di 48 ore gli italiani andranno a votare per ereggere i propri rappresentanti in Parlamento. Siamo dunque alle battute finali della campagna elettorale. La leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, sarà oggi a Bagnoli, in provincia di Napoli, dopo il comizio tenuto ieri insieme agli altri leader del centrodestra, Matteo Salvini, Silvio Berlusconi e Maurizio Lupi a Piazza del Popolo a Roma. Attueremo la riforma del presidenzialismo anche da soli, ha detto Giorgia Meloni dal palco di Roma. A Piazza del Popolo oggi sarà invece Ricoletta, il segretario del PD. In un'intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera si è detto sicuro che il Paese non si consegnerà a quella che ha definito una destra estrema, che è pronta a stravolgere la Costituzione. A Roma si chiuderà anche la campagna elettorale di Giuseppe Conte, che proverà a allontanare il messaggio secondo cui il Movimento 5 Stelle sarebbe soltanto il partito del Sud e del reddito. Al Sud però hanno guardato i principali leader dei partiti negli ultimi giorni di campagna elettorale. Secondo l'ultimo sondaggio di Ipsos pubblicato il 9 settembre, infatti il 75,2% di coloro i quali si dichiaravano pronti ad assenersi alle elezioni, si divide tra centro-sud, sud e isole. Negli ultimi 15 giorni, infatti, i principali leader politici si sono ricati in ben 30 luoghi diversi del meridione. In questo senso il recordman è stato Giuseppe Conte, che ha calcato ben 23 palchi. Ad attendere l'esito del voto non sono però soltanto gli italiani, ma anche l'Unione Europea. La Presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ieri rispondendo a chi le chiedeva di candidati italiani troppo vicini a Putin, ha detto di avere degli strumenti nel caso di voto difficile, come è accaduto in Polonia e Ungheria, dicendosi però pronta a lavorare con qualsiasi tipo di governo democratico. Pronta è arrivata la risposta questa mattina del leader della Rega, Matteo Salvini, che ha parlato di una squallida minaccia e ha dichiarato che il suo gruppo parlamentare è pronto a fare una mozione di censura. Adesso non ci resta che attendere, l'esito delle urne è tutto, vi diamo appuntamento alla prossima edizione del Fatto del Giorno.